Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel corso del 2022 sono state 8 milioni, con un aumento dell'11% rispetto al 2021, lo rende noto l'Inps. La crescita ha interessato tutte le tipologie contrattuali, ma quella più accentuata ha riguardato il tempo indeterminato. La dinamica delle assunzioni nel 2022 è stata più accelerata per le imprese oltre i 15 dipendenti, oltre il 17% in particolare per la classe da 16 a 99 addetti. Per le piccolissime imprese l'incremento è stato limitato al 4%. Le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato nel corso del 2022 sono state 751 mila, in forte e continuo aumento rispetto allo stesso periodo del 2021. Contemporaneamente anche le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono aumentate rispetto all'anno precedente. Le cessazioni nel 2022 sono state 7,6 milioni, in aumento rispetto al 2021 per tutte le tipologie contrattuali.